Il Paradiso è per i forti. Figlia, il Paradiso è per i violenti, non per coloro che si lasciano dominare dalle proprie passioni, vincere dalle tentazioni e che si adeguano alle idee del mondo. Il Paradiso è di coloro che, vincendo ogni difficoltà ed ostacolo, tengono fissa la meta da raggiungere. Il Paradiso è di coloro che seguono Gesù, portando la croce per amore. Gli indolenti, i pigri, i malvagi, i prepotenti, gli egoisti, i superbi. Coloro che cercano nelle opere il loro interesse, la loro soddisfazione e l'approvazione e la lode altrui. Non meritano il Paradiso, poiché a loro Gesù può dire, hai ricevuto la tua mercede. Praticare le virtù contrarie questi difetti è indubbiamente fatica, ma porta tanta gioia, serenità e pace intima per cui vale la pena di essere virtuosi. Forse non si troverà la comprensione del prossimo in questa lotta per vincere se stessi, ma Dio, a cui nulla è nascosto, riserva una ricompensa al cui confronto tutti i beni della terra sono nulla. Il Paradiso soffre violenza, è per i forti, è per coloro che, combattendo la loro battaglia, percorrendo la via indicata dalla legge di Dio, giungono al traguardo tra felati, ma felici.